Monte San Savino ha riscoperto uno dei suoi più grandi tesori, la chiesa di Santa Chiara. Sono infatti terminati i lavori e lo scorso 15 maggio la chiesa è stata riaperta al pubblico. Si trova nella centrale piazza Gamurrini, a fianco del Cassero, edificata per volere delle monache clarisse, tra il 1659 e il 1661 custodisce al suo interno molte opere di rilievo, come le pale di terracotta, che raffigurano San Lorenzo tra i santi Rocco e Sebastiano di Andrea Sansovino e la natività di Luca della Robbia, il Giovane. Oltre a questo, a impreziosire la chiesa insieme ad alcune opere minori, ci sono la grande tela dell'altare maggiore, dipinta da Salvi Castellucci, e una terracotta in vetriata del Sansovino, raffigurante la Madonna in gloria con il bambino e i santi. Questo progetto fa parte di un progetto molto più ampio che riguarda la promozione culturale e soprattutto la valorizzazione del patrimonio storico-artistico di Monte San Savino. Io vorrei ricordare le parole dell'ex ministro Antonio Paolucci quando parla dell'Italia e dice che è un museo diffuso. Io direi che Monte San Savino è un museo a cielo aperto, proprio perché nel suo centro storico raccoglie delle bellezze inestimabili, non solo di palazzi, ma anche come nel caso della chiesa di Santa Chiara, dei tesori artistici come le Robbiane, come le opere del Sansovino, che non sono soltanto opere devozionali, ma essenzialmente in gran parte opere d'arte.